La cosa divertente di lavorare in questa scena è stata che noi comunque lavoriamo senza audio, quindi non abbiamo la più palida idea di quello che si dicono i personaggi, della musica che ci sarà di sottofondo. E quindi durante tutta la lavorazione aveva questi toni un po' drammatici, di queste api in quantità infinite che attaccavano i soldati e li uccidevano. Quando poi ho visto il montaggio mi sono resa conto che c'era questa musica classica molto solenne che dava tutto un tono molto più umoristico di l'idea che mi ero fatta lavorando la sequenza senza sentire nulla.